Il silenzio suonato dalla tromba risuona nell'aria di una Bari semi deserta in questo ennesimo giorno di lockdown che corrisponde con la festa dei lavoratori. L'argo Chiurli ha qualche curioso per strada e ha facciato la finestra per strada a celebrare la figura del padre del sindacalismo italiano Giuseppe Di Vittorio, i segretari di CGL Puglia e Bari Pino Gesmundo e Gigi Abucci, con loro anche il sindaco di Bari Antonio De Caro che ha reso omaggio al grande statista Cerignolano con una corona di fiori. Parlare di lavoro in questo periodo in cui il covid ha messo in ginocchio l'economia italiana diventa davvero difficile come spiega il segretario pugliese Gesmundo. Non potevamo mancare qui a ricordare un grande uomo, un grande sindacalista, capostipide del sindacato mondiale, padre della CGL, un bracciante che ha scritto pezzi di costituzione importanti soprattutto rispetto ai temi del lavoro. Soprattutto oggi, in un momento nel quale il mondo del lavoro sta soffrendo, tanti lavoratori hanno una grande difficoltà a immaginare il loro presente, il loro futuro, la loro prospettiva. E con questa copertina dedicata alla commemorazione di Giuseppe Di Vittorio apriamo questa seconda edizione delle nostre breaking news e continuiamo adesso a parlare di lavoro proprio in questo giorno, di primo maggio, un primo maggio chiaramente insolito. Andiamo a Santa Cesaria Terme dove per noi c'è Paolo Franza. Buongiorno Paolo. Sì, Antonella, buongiorno. Buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in diretta da Santa Cesaria Terme con Sandro Toffi, imprenditore, che lo scorso anno ha rilevato una delle più belle discoteche della zona. E quest'anno probabilmente non si aprirà, c'è ancora incertezza che idea ti sei fatto per questo 2020. Quali sono i tuoi progetti, se ci sono, se è stato possibile fare dei progetti? Allora, premesso, buongiorno a tutti. Premesso che noi ci eravamo già messi l'animo in pace nel essere considerati gli ultimi che potranno riaprire, quindi probabilmente secondo le previsioni questa cosa sarebbe accaduta addirittura nel 2021. Ma credo che, se sarà vero, i decreti inizieranno a essere regionalizzati e non più nazionali, quindi io credo che il prossimo decreto potrebbe dare un allentamento forte sulla Puglia, che comunque non ha una situazione così drammatica. Gioco forza probabilmente a luglio, giugno, luglio potrebbe essere anche il momento in cui tocca anche a fare delle prove ai locali da ballo, col distanziamento sociale, con la capienza ridotta. In Spagna, tra l'altro, ci sarà una prova di 15 giorni a fine maggio in cui apriranno le discoteche con capienza ridotta. Dico anche che in Cina, dopo tre mesi esatti dall'inizio del lockdown, le discoteche hanno riaperto regolarmente, con i termoscanner all'ingresso, con la patente di immunità all'ingresso e col distanziamento sociale e con tutte le protezioni del personale che ci lavora. È possibile in una discoteca rispettare il distanziamento, ma soprattutto a capienza ridotta poter mantenere quelli che sono i costi? No. Allora, se ci saranno, e credo che ci saranno, delle discoteche che garantiranno il distanziamento sociale e la riduzione della capienza, sarà semplicemente una grossa ipocrisia. Perché, per quanto tu metti solo dei privè, solo dei tavoli, distanzi le persone, io credo che poi ci vogliono, se tu metti 300 persone, ci vogliono 300 addetti della sicurezza per garantire che le persone non si avvicinino fra di loro, soprattutto dopo un paio di cocktail. Per cui io questa la vedo una grossa ipocrisia. I costi no, non sono assolutamente ammortizzabili nel ridurre la capienza e lavorare col distanziamento sociale, ma non è proprio il senso della discoteca, è tutt'altro. È vicinanza, è gioiosità, non la vedo come una soluzione. Può essere una soluzione se abbinata alla ristorazione. Infatti la nostra eventuale riconversione sarà quella della ristorazione e la cena spettacolo, quindi la gente, nelle varie gradinate che vedete qui del Malè, distanziata ognuno con il suo tavolo, che lì mangerà e lì ballerà senza utilizzare la pista. Questa è un'unica possibile ipotesi di riconversione, ma preferisco pensare che verrà un giorno in cui con la patente di immunità si potrà entrare nel locale tranquillamente senza dover garantire il distanziamento sociale. Grazie a Sandro Toffi. Antonella, se non avete domande vi restituirei la linea. Grazie, grazie a Paolo Franza e a Sandro Toffi per la sua testimonianza. Andiamo avanti, continuiamo a parlare di lavoro. La figura dell'autista soccorritore va rivalutata. Siamo fantasmi, così un volontario del 118 lancia l'appello ai nostri microfoni al governatore pugliese Emiliano. Sentiamo. L'autista soccorritore non essendo riconosciuto, praticamente dovrebbe essere un operatore tecnico del soccorso, solo così. Però non esiste un albo, non esiste una categoria, non esiste niente. Esiste soltanto questo personaggio che con la sua patente si mette alla guida e va. Va nelle sue incertezze e anche a livello contrattuale. Perché non esistendo un albo, non esistendo un qualsiasi cosa che lo riconosca, lui diviene riconosciuto questo contratto. Contratto marginale. Lavoro e volontariato, abnegazione e paura. Tutto questo è racchiuso nella figura dell'autista soccorritore del 118. Una figura da sempre fondamentale nella squadra del servizio di emergenza nazionale, ma forse troppo trascurata o sottovalutata. In più c'è la doppia figura. C'è l'autista soccorritore che lavora per l'associazione, poi c'è l'autista soccorritore volontario. È un'altra forma oscura praticamente in Italia che sta operando da oltre 15 anni, da quando è partito il sistema 118. Tutti lo sanno che esiste, però ad oggi nessuno è in grado di poterlo definire, quantificare anche negli emolumenti. Che cosa chiedete voi oggi, soprattutto alla luce di questa emergenza storica, emergenza sanitaria storica? Noi chiediamo all'amministratore regionale, che è il presidente Emiliano, che si continui a parlare di internalizzazione per i dipendenti che già fanno parte delle associazioni. Ma un riconoscimento per noi in questo periodo, perché noi sappiamo che questa è una situazione che non finirà domani. E noi rischiamo tutti i giorni e continuiamo comunque ad andare in turno, comunque a fare il nostro lavoro. Lavoro, perché io sono un lavoratore. Io quando vado in turno non sono un volontario, perché mi riconoscono qualcosa. E in buoni pasto, e in contributo spese. E nel momento in cui ti riconoscono qualcosa non sei più un volontario. E io sono un lavoratore come il mio collega. Allora, quello che noi stiamo chiedendo, i volontari, gli autisti soccorritori volontari di questo periodo, i soccorritori, anche i soli soccorritori volontari, in questo periodo, almeno un paracadute. Qualcosa che se ci mette in quarantena, almeno ci venga riconosciuto qualcosa. Quello che stiamo chiedendo in questo periodo. E almeno questo periodo un pochino allarmato, dove alla fine della giornata so che rientro a casa e se mi dovesse accadere qualcosa, c'è qualcuno che mi riconosce a livello istituzionale. Perché noi siamo nel mondo. Ci sono meno contagi in Puglia, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Così il dottor Denis Sivo ha i nostri microfoni, il responsabile del sistema di gestione integrato salute e sicurezza sul lavoro, ritiene che l'uso delle mascherine sia necessario. Monica Arcadio. Dottor Sivo, fase 2. Come ci si prepara? Ci si prepara prestando più attenzione di prima, perché alcuni permessi sono oggi possibili, che non significa che bisogna abbassare la guardia. Anche perché il governo, saggiamente e giustamente, ha previsto un lento ritorno alla normalità. E quindi, se noi saremo bravi, facendo il primo passo, la curva epidemica continua a scendere, potremmo fare un secondo. Se la curva epidemica continuerà a scendere, ne faremo un terzo. Se invece tornerà un po' a salire, dovremmo frenare un po'. È una saggia prudenza, perché, soprattutto qui al sud, nonostante quello che si pensi, proprio il fatto che noi ci siamo comportati molto bene, anzi benissimo, secondo recenti studi in mio possesso, tra gli operatori sanitari, che in teoria dovrebbero essere i più esposti, siamo ben sotto l'1% dei casi che hanno avuto contagio col coronavirus. Quali sono ancora oggi le criticità, se ci sono, in Puglia? Le criticità, come tutte le epidemie, riguardano i luoghi chiusi, le comunità, e tutti i luoghi in cui ci sono assembramenti sociali. Questa cosa un po' l'abbiamo imparata in questi mesi, no? Il distanziamento sociale, guardate quanto è servito. Nel giro di qualche settimana le rianimazioni sono passate, le persone ricoverate in rianimazione, da 4.000, adesso siamo ben sotto i 2.000. In questa regione erano 160, ieri erano 40. Significa aver fatto respirare il nostro sistema. Semplicemente e unicamente, perché al momento non abbiamo altro, con il distanziamento interindividuale, e con l'utilizzo ovviamente dei meccanismi di barriera. Quindi le cosiddette famose mascherine o le visiere, che vediamo sempre più diffuse. Questo è un consiglio che va dato. Io sono dell'idea che se tutti quanti noi utilizzassimo una mascherina, è come se avessimo un gigantesco a protezione sociale di massa. e renderemo molto, molto più difficile la propagazione del virus. Quello di quest'anno quindi è un primo maggio non convenzionale, diverso dagli altri. Di solito il primo maggio si pensa alle uscite fuori porta e diciamo qualcuno ha pensato a un palliativo proprio per fare in modo che ci si possa dedicare al picnic anche in casa. Vediamo. Un kit per fare il primo maggio a casa comodamente in salotto, come se fosse un picnic. Allora signora, che cosa c'è in questo pacco? Quali prelibatezze mettiamo? Iniziamo con il formaggio di capra, della salsiccia sia dolce che piccante, delle fave novelle, una bella bottiglia di vino che non deve mancare mai e del pane necessario che con le fave lega molto. Sono più di 40 i pacchi preparati e consegnati nelle ultime ore con le prelibatezze del nostro territorio. Il kit punta a far fare ai baresi un primo maggio gustoso ma è in casa nel pieno rispetto dei decreti in materia di emergenza sanitaria. Quelle inserite nel pacco sono solo alcune del paniere di specialità offerte dall'agricoltura pugliese che può contare su 623 specie autoctone e vegetali a rischio di estinzione, 276 prodotti riconosciuti tradizionali dal Mipaf e 11 prodotti DOP. Signora, salve! È il pacco della Coldiretti. Bene, è tutto per questa seconda edizione delle nostre Breaking News. alle 13.55 la nostra seconda edizione del TG. Grazie, a dopo.